Il tema della viabilità nella provincia di Chieti tiene sempre banco con diverse affermazioni da ambedue le forze politiche sia a livello provinciale ma più direttamente anche a livello comunale. Per esempio ad Atessa ci sono due diverse vedute sulle priorità riguardo al rifacimento del manto stradale ma anche ad opere infrastrutturali. Si è parlato anche di Giro d'Italia nelle ultime polemiche schermaglie diciamo così politiche a livello provinciale e siamo con il capogruppo PD Camillo D'Amico che aveva avuto modo anche attraverso la nostra web tv di replicare per iscritto al presidente della provincia. C'è l'opportunità di sentirlo direttamente quindi chiediamo a lui la sua versione dei fatti. Iniziamo proprio dalla mancata disputa del Giro d'Italia nella provincia di Chieti. La mancata disputa del Giro d'Italia avevano anticipato due autorevoli quotidiani, il centro e il messaggero, quando poi la notizia è diventata ufficiale l'ho ripresa, l'ho rilanciata lamentando questioni che erano state anche dei grossi limiti durante la tappa del Giro d'Italia di quest'anno, quella del 10 maggio, Tazan Salvo e Pescara. Non è stata una mia invenzione, a me fa specie che il presidente di Giuseppe Antonio, dopo tante premesse e promesse che aveva fatto proprio per tenere alta l'attenzione sullo stato e la viabilità provinciale, che coincidesse proprio con la venuta dei girini nel nostro territorio, aveva promesso grandi manifestazioni di dissenso e di protesta, non ne ha fatta solo una. Ma questa è altra storia. Il problema è che mi ha risposto, dopo più giorni che questa notizia era stata pubblicata sui siti e sui giornali locali, prendendo spunto da una nota che mi è stata indirizzata dall'organizzatore che lavora presso la prefettura di Chieti, che a me fino ad oggi non mi è stata fisicamente notificata e ho pure il sospetto che non l'abbia addirittura sollecitata a questo punto. A pensare male si fa peccato, diceva il buon Andrea Ott, ma spesso ci si azzecca. Io prendo per buona comunque e do buona fede assoluta a chi mi ha scritto, mi riservo di incontrare e di chiarire gli aspetti dei contenuti di quella lettera, però non è corretto politicamente risollevare una questione sulla quale ormai tutti hanno contezze e chiarezza di cosa sia successo, di quello che è lo stato e le nostre strade, per fare della mera strumentale polemica nei miei confronti, senza che poi questa nota mi sia stata notificata e senza dire come si vuole in qualche maniera porre limite a questo stato disastroso della viabilità provinciale, per la quale è bene ricordarlo una volta per tutte, questa amministrazione ha trovato in cassa 28 milioni e 200 mila euro frutto del buon lascio del centrosinistra, la cui filiera governava quando ci siamo insediati nei primi anni, provincia, governo nazionale, regione Abruzzo. Quell'ascito in termini finanziari è stato dato a Enrico Di Giuseppe Antoni e la sua amministrazione come eredità e la prova ne è che quando lo Stato nazionale, il governo ha consentito di poter pagare le imprese che erano creditrici, una delle poche province in Italia che non ha chiesto anticipazione alla cassa di posto e presto è quella di Chiedi, proprio perché i soldi in cassa c'erano. Questa è la vicenda del Giro d'Italia. Sull'altra questione più pertinente all'area industriale della Val di San, non voglio entrare nella polemica tutte a Tessane, circa l'utilizzo di milioni e poco più di euro disponibili per la rotonda sulla provincia di San Gritano. Riconosco che le sollevazioni di protesta dei cittadini di cui si è fatto portavoce sia a Borrelli che il movimento a Tessane sono pertinenti, quello che è lo stato di disastro di quella viabilità di collegamento all'area industriale percorsa giornalmente a migliaia di autovetture e da mezzi pesanti. Però io credo che proprio in ragione del fatto che sono sei anni che parliamo di una rotonda che è una delle infrastrutture utili a rendere sicura la percorribilità e di servizio all'area industriale, siamo allo stato finale, dobbiamo essere appaltati i lavori, pensare di spostare quell'intervento per i manti stradali mi sembra quantomeno strumentale, è solo per una perdita dei tempi. Io credo che invece, così come abbiamo scritto nell'ordine del giorno, che poi è stato votato all'unanimità da parte del Consiglio provinciale, fatta proprio dalla maggioranza, tutte le risorse disponibili debbono essere immediatamente spese, le eventuali economie debbono essere reinvestite immediatamente per i manti stradali e va chiesto alla Regione Abruzzo, che negli ultimi cinque anni ha trasferito un solo centesimo, pur essendo la stessa filiera istituzionale, la provincia per intervenire sulla viabilità provinciale e poi siccome è uno stato disastroso, molto spesso dipendente proprio da cattive intemperie atmosferiche, noi ci siamo permessi di suggerire anche di chiedere opportuni finanziamenti, anche per parti territori che sono la conseguenza naturale dei disastri delle intemperie, di chiedere dei fondi aggiuntivi anche alla Cassa Depositi e Presti. Fermo restando che siamo in una fase di predisposizione dei bilanci 2014 per la provincia e per la Regione Abruzzo, credo che sia il caso, tutti insieme, anche in ragione della forza che dà quell'ordine del giorno approvato unanimemente, di predisporre somme proprio destinate alla viabilità di collegamento all'area industriale della Val di Sangue, che tutti riconosciamo come importantissima perché da il 70% del PIL nel settore manifatturiero rappresenta più di un terzo del PIL regionale indese nella sua interezza. Il Presidente di Confindustria Chieti, Paolo Primavera, citava un esempio su un maxifinanziamento destinato all'Aquila Amatrice percorsa da pochissimi mezzi e suggeriva magari di dirottare parte di quei fondi su zone infrastrutturali più importanti come sottolineava anche Marchionne. Io credo che solitamente non mi trovo d'accordo con le posizioni di Paolo Primavera, proprio perché a volte abbiamo anche ruoli, opinioni e probabilmente anche orizzonti politici completamente alternativi, però mai come in questo caso sono assolutamente d'accordo con lui, perché se come lui ha asserito gli interventi debbano essere destinati completamente alla Fondovalle Sangue, credo che datasi l'importanza di questa arteria di collegamento con la parte tirrenica della nostra Italia, ma soprattutto perché da uno sbocco anche verso il porto di Napoli, ma soprattutto perché di servizio all'area industriale della Val di Sangue, per la quale la Fiat ha riservato 700 milioni di euro per la SEVE, mai come in questo caso mi trovo assolutamente d'accordo con Paolo Primavera e dichiaro la nostra tuttotale disponibilità a fare ogni azione utile possibile al raggiungimento di questo scopo. Questo non significa non valorizzare l'aspetto turistico del Parco Nazionale, ma credo che a questo punto, datasi proprio la scarsità di risorse finanziarie disponibili, bisogna assumersi la responsabilità di fare l'elenco delle priorità. In questo caso sono assolutamente d'accordo con Paolo Primavera.